Ciao, bentornato al corso online acquarello. Oggi parleremo dei diversi tipi di carta e di pennelli da utilizzare. Nel mondo dell'acquarello e dell'arte in generale e di queste tecniche tradizionali come possono essere la tempina o anche l'olio e gli acrilici, le marche devo dire che fanno la differenza. Infatti una buona resa del disegno dipende anche dalla marca e dalla qualità dello strumento che si è deciso di usare. Per questo motivo le tecniche tradizionali come anche l'olio, l'acrilico o la tempera predispongono di un certo investimento iniziale. A volte è meglio cominciare con poco materiale ma di qualità adeguata. Ti sconsiglio per questo di comprare materiale scadente, molti lo fanno però il rischio è quello di non raggiungere all'inizio il risultato sperato e di scoraggiarsi subito. Ti consiglio pertanto di recarti da un negozio di belle arti vicino all'altra zona con la lista che ti ho fatto avere all'inizio e di farti consigliare anche da loro. Questo è un foglio singolo arch, rubido e come puoi vedere la carta ha tutta una bella trama sopra. La carta per acquarello è bene sia spessa e ti consiglio di usare la grana a 300 grammi. Le altre infatti tendono a imbarcare l'acqua un po' eccessivamente. L'elemento che fa la differenza nella qualità della carta è il fatto che questa sia composta per il 100% di cotone. Molte delle carte in commercio invece hanno una percentuale differente e non sono del tutto naturali. La carta per gli acquarelli si distingue a seconda del suo grado di ruvidezza. Si trovano tre tipologie di grana in commercio. La grana ruvida, detta cold press, la grana media, un po' meno ruvida della prima, e la grana satinata, hot press, che è invece liscia ed ha degli usi differenti. In questo caso invece puoi vedere la differenza tra una carta satinata e un'altra invece ruvida. La differenza è notevole e lo si vede anche tutti ad occhio. La grana ruvida e la grana media permettono di gestire meglio il colore sopra la carta, mentre nella grana satinata il colore tenderà a rimanere più sulla superficie. Diciamo che la grana satinata si utilizza soprattutto per la tecnica mista, che è quella che anche io uso più spesso. Se dopo aver passato l'acquerello si vogliono utilizzare matite colorate oppure penne o altri strumenti del genere, la grana satinata è la migliore. La grana ruvida e la grana media invece tendono ad assorbire maggiormente l'acqua, ma sono più semplici sicuramente per iniziare. Se vuoi utilizzare la carta satinata va bene, però dovrai fare attenzione a quanta acqua avrai sul pennello e sarà più difficile gestire il colore. Le carte delle marche migliori sono Fabriano Artistico, Arche e Canson e si possono trovare sia sfuse sia in blocchi. Anche qui la convenienza cambia a seconda dell'uso che se ne fa. Diciamo che la Canson e la Fabriano Artistico sono di qualità media, mentre l'Arche è una delle carte migliori che si può trovare in assoluto in commercio ed è anche una delle più costose. Qui invece puoi vedere un foglio singolo e invece un blocco. Sempre di fogli di grana ruvida. La scelta dipende appunto da come ti è più comodo e dall'uso che ne vuoi fare. Il foglio ovviamente sarà di una dimensione abbastanza grande e poi lo dovrai tagliare tu nella misura che vorrai. Se invece preferisci delle misure standard, ti consiglio di utilizzare i fogli già inseriti in un blocco. Tutte le carte a contatto con l'acqua tenderanno ad imbarcarsi. E' importante quindi se hai fogli singoli fissare la carta su una superficie con lo scotch di carta, che è un altro strumento fondamentale come vedremo dopo. Poi ti insegnerò anche come fare questo passaggio. Di solito se si hanno i blocchi, i fogli sono incollati tra loro. Puoi cominciare già a dipingere sul blocco stesso e il foglio rimarrà ben fissato perché è incollato. Poi alla fine con una taglierina potrai staccare il foglio che ti interessa facendo molta attenzione, proprio in questo modo. Pagliare il foglio che ti interessa Pagliare il foglio che ti interessa Pagliare il foglio che ti interessa Pagliare il figlio che ti interessa Pagliare il foglio che ti chiaras guttra Pagliare il foglio che ti interessa i pennelli si trovano di solito in commercio sono di due tipi sono a pelo di martora oppure di altri animali oppure si trovano anche i pennelli sintetici i primi quelli da pelo di animale sono più resistenti e duraturi ma anche secondi possono essere di buona qualità le migliori marche dei pennelli sono windsor e newton soprattutto serie kotman per chi vuole cominciare e da vinci ma anche la marca spagnola escoda che fa soprattutto pennelli sintetici è da consigliare per affrontare la tecnica dell'acquarello il pennello più adatto è quello a punta tonda con manico corto ma può andare bene in alcuni casi anche quello della punta piatta ad esempio per campiture molto ampie la cosa migliore sarebbe avere pennelli di varie grandezze a seconda del tipo di figura o di spazio che andiamo a colorare useremo infatti un pennello diverso i pennelli più piccoli sono più adatti per i dettagli mentre quelli medi sono più adatti per zone più ampie da ricoprire con il colore questo è il pennello più piccolo che permette di andare molto molto nel dettaglio questo è un altro ottimo pennello da vinci di dimensione 2 eccolo qui fondamentale per farli durare nel tempo dato che hanno anche un costo e la manutenzione dopo aver usato i pennelli si dovrebbe sempre lavare con un sapone per pennelli o in alternativa un sapone di marsiglia che è un sapone abbastanza delicato i pennelli vengono venduti di solito con un cappuccetto sopra ed è bene conservarlo perché aiuta ad evitare traumi alle setole spesso infatti si rischia di piegarle e di rovinarle questo invece è il pennello più grande che mi avuto e sicuramente è comodo per gli sfondi anche questo è un Winsor & Newton serie Gottman e la misura è 14 a presto a presto